Cara Elena, cara Elena, benvenuta Elena. Tu sei qui per le fobie, tu che fobie hai? Allora, io ho la tafofobia. La? Tafofobia. Tafofobia. Cioè paura dei tafi? Dal greco tafos, sepolcro. Paura di essere seppellita viva. Sepolta viva. Cioè che sto nella... Vabbè, non è una paura tua, quella di tutti dicendo che c'è piacere essere sepolto vivo, scusi. Cioè che tipo, tutti pensano che io magari sia morta, deceduta, mi mettono quindi nella vara e io dopo un po' mi risveglio e comincio a dare i pugni ma nessuno mi sente. Però se poteva allenare, perché è un anno che ci hanno tumulato dentro casa, scusa. È una forma di allenamento, è un training, è un training. Ma che strana questa cosa. Infatti nel medioevo, nel medioevo quando la medicina non era particolarmente avanzata, venivano sepolti con la campanellina. Cioè nel caso questa non fosse stata riscontrata la morte apparente, questo suonava, faceva... Hai altre ansie, preoccupazioni, angosce? Sì, un'angoscia di essere rapita dagli alieni. Oh, è questa è ciò. Vengo subito. Cioè io gli volevo bene a questa, ma... Da quant'è che non la vedeva? E beh, se è preoccupante stavo... Paolo, mi è venuta una domanda. È possibile che lei dentro ci abbia un alieno che ha paura di essere tumulato? Quindi non è una paura sua. Grazie mille. Grazie a tutti